buongiorno benvenuti nel mio canale delle volte ricevo dei commenti che mi stupiscono altre volte invece che stimolano la mia creatività in questo caso ho ricevuto un commento che mi ha sia stupito sia stimolato un po a fare questo nuovo video il commento riguardava appunto la personalizzazione del testo su da vinci resolve vediamo tutte cioè tutte almeno moltissime delle possibili personalizzazioni che si possono fare con da vinci resolve per quanto riguarda il testo innanzitutto questo è il project manager che si apre nel momento in cui si fa andare da vinci di resolve si va al new project chiamiamo testo personalizzato e si va su create e si visualizzerà questa interfaccia nella cartella nella scheda cat e noi iniziamo direttamente dalla scheda edit il testo ci sono due testi inserito i testi sono i titles c'è il text senza più e il text con il più cominciamo con il text senza più quindi lo trasportiamo il title avete test lo trasportiamo nella timeline in questo modo può essere personalizzato anche da solo ma volendo si può mettere sotto qua un video oppure si può mettere un generatore per esempio questo generatore qua e quindi sopra si vede il testo e sotto si vede il generatore magari questo caso lo possiamo togliere per vedere soltanto il titolo questo titolo poi vedete si seleziona e si va qua su inspector se non si vede si clicca sopra e qui c'è title qui si digita il titolo questo caso è basic title mettiamolo che questo semplicemente testo di prova su vado a capo quindi vado su invio da vinci resolve poi anche su a capo multi piattaforma ecco fatto prima cosa da fare si può cambiare la famiglia di fonte al posto di open sun se si clicca qua vede qua nel momento in cui si passa sopra alle famiglie di fonte si vede immediatamente l'anteprima vedete quindi si può scegliere all world ecco vedete magari sono delle idee fonte che non sono supportati e questa è la prima cosa vedete semplicissimo si può scegliere il fonte direttamente vedendo l'anteprima lasciamo questo per adesso open suns chiaramente possiamo scegliere il bold cioè il grassetto oppure bold italic cioè corsivo vedete qua ci sono tutte le opzioni dello stile colore stesso discorso è per il colore si può scegliere il giallo si va su ok e questo è giallo size e size ora il size è la dimensione quindi se io sposto in avanti c'è sia aumenta la dimensione sposto a sua sinistra si diminuisce la dimensione il trekking e cos'è il trekking il trekking è la distanza tra i vari caratteri quindi se io sposto sulla destra aumenterà la distanza lo spazio tra i vari caratteri vedete se lo sposto sulla sinistra diminuisce addirittura i caratteri andranno uno sopra l'altro vedete ora line spacing che cos'è il line spacing è la interlinea cioè la distanza tra una linea e l'altra io ho messo tre linee apposta per questa ragione se io posso sulla destra aumenta la distanza se lo sposto sulla sinistra invece diminuisce addirittura vanno su uno sopra l'altro uno può adattare l'interlinea come gli pare qui poi c'è la possibilità di mettere vedete la sottolineatura la sovralineatura la barratura e qui si può sommettere anche gli esponenti e i pedici volendo adesso vi faccio vedere cosa vuol dire per esempio se io mettessi x alla seconda seleziono 2 e metto l'esponente ecco quindi che posso creare una potenza le cose che si possono fare con text vedete questo abbiamo scelto text in title abbiamo scelto text senza più text e basta sono molte altre per esempio io posso selezionare il di qui e cambiare il ponte soltanto di questo di vado qua ci metto ad esempio oswald vedete cambia soltanto il di gli altri rimangono gli stessi e di cambia solo il ponte del di perché io selezionare solo il di tempo lascio questo e posso cambiare anche il colore del di soltanto perché ho selezionato solo questo poi l'allineamento può essere a sinistra al centro a destra oppure giustificato l'ancor l'ancor anche questo è si può ancorare dal dal basso e quindi fa parte dall'alto dal centro dal lato quindi parte dal basso oppure da sinistra quindi parte da destra dal centro orizzontalmente e da parte in questo caso da sita perché ancora fa la posizione anche qui possiamo scegliere quello che ci fare possiamo chiaramente selezionare adesso lasciamo soltanto la prima parte testo per esempio qui c'è la rotazione vedete si può rotare e questo per quanto riguarda questo vedete il testo normale che può essere modificato anche carattere per caratteri seleziono il t posso cambiare il t come colore ok e posso cambiare il t anche come font se io invece scelgo test più l'opposto qua posso fare le stesse cose scrivo testo per esempio testo più come vedete posso cambiare il t anche se non è supportato si vede soltanto questi quadratini questi rettangolini posso cambiare il size naturalmente però non posso modificare un singolo testo per esempio se io scelgo se io seleziono il p io cambio colore come vedete cambia colore tutto il testo e non solo il picchio selezionato il nostro discorso vale per la dimensione se io seleziono per esempio solo il chi aumento la dimensione e aumenterà la dimensione di tutto il testo quindi text più in un certo senso è meno personalizzabile del testo normale senza più in realtà non è così perché il testo più può essere personalizzato direttamente come vedremo dalla scheda fusion prima di passare alla scheda fusion vi voglio far vedere un'altra cosa per esempio scriviamo testo personalizzato su più righe con da vinci risolve diminuiamo un po il size ecco fatto qui vedete in basso c'è raiton raiton cosa significa raiton raiton è spostando sulla destra vedete via via spariscono tutti i caratteri e allora che cosa possiamo fare spostare tutto a destra questo qua e visualizzare niente scontare tutte e due i pulsori a destra e applichiamo il t frame qui poi spostiamo questo qua tutto invece in bar nella parte finale e spostiamo tutto sulla destra questo secondo pulsore cosa succede se io lo faccio andare si vedrà un testo digitato vedete sembra che sia un testo digitato e invece è un testo che è stato inserito da noi con questo sistema cioè con raiton e con i keyframe all'inizio abbiamo spostato i keyframe tutti e due cursori sulla sinistra per non vedere niente e alla fine abbiamo abbiamo spostato il pulsore sulla destra per invece visualizzare via via tutti i vari caratteri e questo è e adesso passiamo alla cartella fusion eliminiamo anche tutto questi cat cat e per passare la cartella fusion andiamo qua sul destra del mouse nella media pool e andiamo su new fusion composition quindi diamo un nome a questa composizione che facciamo fusion composition one cioè su create verrà creata una fusion composition che si sposta sulla timeline eccola qua a questo punto io ci clicco sopra con il destra del mouse e vado su open in fusion page per avere la scheda fusion la fusion page appunto quindi ci sarà soltanto qui media out ma se io posso spostare però il testo come vedete il testo è qua e questo è il testo più proprio text blu vedete lo sposto e lo collego alla media out e qui sul testo più io lo seleziono vado qua sul testo e digito il testo per esempio text e naturalmente qua posso fare tutte le personalizzazioni che abbiamo già visto posso aumentare per esempio questo modo ecco fatto posso cambiare colore naturalmente ma abbiamo già visto in questo caso cancelliamo posso aumentare il trekking cioè la distanza tra i vari tra i vari caratteri e posso aumentare line space in questo caso non si vede perché c'è una sola riga cioè l'interlinea qui ci sono gli ancoraggi in alto basso a destra sinistra e qui c'è il rayton che abbiamo già visto adesso che cosa facciamo però possiamo fare un'altra cosa possiamo personalizzare ciascun carattere andiamo con il tasto del mouse qua sul sul testo e scegliamo caratter level styling e verrà attivato la scheda modifiers ci clicco sopra e vedete verrà attivata scheda modifiers cosa significa che in questo modo avendo attivato questa scheda io potrò modificare i singoli caratteri per lo singolarmente personalizzare singolarmente vado su modifare e come vedete io posso modificare i singoli caratteri per esempio seleziono la x dopo che è selezionata la x io posso per esempio cambiare i caratteri della x c'è il colore valore sul rosso e cambio il colore della x posso cambiare il suo la sua dimensione le altre dimensioni rimangano uguali posso cambiare il trekking e line spacing non si vede perché non ci sono più di una riga cosa interessante andare poi su transform se ora su transform io posso per esempio andare su rotation e ruotare questo singolo carattere secondo l'asse x io ruoto questo carattere perché ho selezionato questo ma ne potevo testare un altro tutti insieme veramente posso ruotare secondo d'asse y e posso ruotare secondo l'asse z share share invece è la inclinazione posso inclinare rispetto alla x posso inclinare rispetto alla y size anche size naturalmente si capisce cosa vuol dire cioè posso aumentare la x la dimensione secondo la x c'è la dimensione orizzontale e posso diventare aumentare la dimensione verticale dimensione orizzontale in questo modo poi possiamo andare su scedi succedi qui per esempio possiamo applicare l'opacità come vedete si può andare in trasparenza e qui si può applicare l'outline cioè di vedere soltanto l'esterno questo invece solide questo invece l'esterno si vede così si vede solo l'esterno vedete posso adattarlo alla prospettiva qui posso mettere tutte queste tre opzioni oppure nessuna queste ticchiness cioè lo spessore posso aumentare lo spessore dell'outline oppure diminuirlo possiamo selezionare un secondo elemento cosa vuol dire io vado qua e seleziono un secondo elemento vado qua lo seleziono e vado su enable cioè lo abilito questo secondo elemento e qui si vede sotto questo secondo elemento e cos'è è l'interno del carattere quindi in questo caso il colore bianco ma io posso cambiarlo e metterlo per il giallo ok vedete posso aumentare la morbidezza qui ci sono altre opzioni cioè la posizione la rotazione in questo caso vado su 0 vado su invio per lasciare uguale poi posso ritornare su il primo elemento e magari cambiare il colore col che si tratta del colore del bordo perché ho scelto questa text alla outline e mettere per esempio il blu e cambia soltanto il colore del bordo e adesso possiamo ritornare su tools per esempio andare su layout qui diminuiamo magari la dimensione in questo caso essendo su tools modifico tutto il testo invece se era su modify modificavo il singolo carattere come avete visto vado su tools diminuisco la dimensione perché diminuisco la dimensione perché vi voglio far vedere un'altra cosa qui in type c'è point e io invece scelgo path cioè percorso e adesso creo un percorso con una poligonale per esempio parto da qui ci fico sopra poi vado qui 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 e poi vado qui in position on path io posso spostare il testo nel punto che voglio della poligonale per esempio qui ecco fatto l'ho messo all'inizio mettiamolo proprio qui ecco fatto spostiamo l'indicatore di riproduzione all'inizio per esempio e mettiamo il fotogramma chiave il keyframe qui poi spostiamo l'indicatore di riproduzione magari alla fine e la posizione del testo lungo il percorso la mettiamo che esca ecco fatto si può quindi creare un movimento al testo secondo un percorso che uno ha impostato precedentemente con i fotogrammi chiave ci vuole andare andare avanti andare indietro insomma quello che ci pare a questo punto questo testo può essere utilizzato per posizionarlo sopra a un video sopra un qualsiasi altra cosa si torna sulla scheda edit page qui per esempio come vedete si vede con la trasparenza si mette per esempio un generatore come abbiamo visto prima per quattro gradienti eccolo qua e qui magari ci sarà il testo che si vede magari secondo l'impostazione che abbiamo scelto si va avanti e indietro come ci pare ecco così e questo più o meno sono tutte le cose che vi volevo dire sul testo come avete visto ci sono due tipi di testo il text normale e il text plus il text normale si utilizza esclusivamente nella scheda edit mentre il text plus è bene utilizzarlo nella scheda fusion e questo è tutto alla prossima volta